La prossimità non è solo pratica, ma è un modello di azione pubblica e la consapevolezza di sé e dell'altro e l'attenzione alla persona è un salvavita universale. Questi i concetti che stanno alla base di una sicurezza urbana e dell'azione di Polizia di prossimità di cui si è parlato in un seminario ospitato ad Arezzo. I casi che sono stati trattati e risolti dal gruppo della Polizia di prossimità è veramente rilevante. Si va da situazioni legate più al disagio sociale oppure al degrado urbano, a fatti di inciviltà. Una pluralità di situazioni in cui lo strumento tradizionale di lavoro della Polizia Municipale, che era quello della sanzione, non è stato applicato ma si è cercato di arrivare ad una composizione del conflitto, ad una risoluzione dei problemi, attivando una pluralità di soggetti e in particolare partendo proprio dai cittadini. Questo credo che sia un modello da sviluppare e anche in questa ottica che abbiamo organizzato il seminario di oggi, che ha visto anche la partecipazione molto importante della Procura della Repubblica. In particolare abbiamo già da tempo intrapreso questo rapporto di collaborazione con la Procura per quanto riguarda gli interventi a tutela delle utenze deboli, intendendo appunto come utenze deboli in particolare gli anziani, i minori vittime di violenza o le donne vittime di violenza. Ecco, l'attività dei vigili di quartiere e polizia di prossimità deve proprio operare a 360 gradi, in situazioni le più ampie e le più significative, a mio parere, proprio per il benessere della collettività.